Musica Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. Le operazioni di disinnesco della bomba ritrovate in un cantiere edile di via Ferrari San Marghera lo scorso 15 gennaio si sono concluse alle ore 15 e 38 di ieri con il brillamento in mare del contenuto dell'ordigno. L'attività ha richiesto un intenso lavoro di coordinamento da parte del centro operativo misto della protezione civile della profettura di Venezia al comando dei vigili del fuoco, iniziato all'alba con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine impegnate nelle attività di sorveglianza, sgombero, regolazione del traffico, assistenza e disinnesco. La mole della bomba, residuato bellico americano, generalmente utilizzato per distruggere obiettivi come infrastrutture e depositi, era di un totale di 230 kg, di cui 127 di tritolo. 5, 4, 3, 2, 1, brillamento! Vietato l'utilizzo di coriandoli e stelle filanti in plastica in tutto il comune di Venezia per il prossimo carnevale. Questa l'ordinanza firmata proprio questa mattina dal sindaco Luigi Brugnaro. Alla notifica delle sanzioni amministrative previste dalla legge si aggiungerà per i trasgressori anche il sequestro dei più esotti vietati. Il provvedimento va ad inserirsi all'interno di un progetto più ampio sviluppato dall'amministrazione per sensibilizzare la cittadinanza in termini di sostenibilità ambientale. Stiamo concentrando l'attenzione soprattutto sulla salvaguardia della nostra laguna e dei mari. Proprio per questo abbiamo collaborato con i pescatori di Pelestrina e Burano, riuscendo a far considerare la plastica prodotta durante la loro attività come scarto ad uso domestico, facilitandone così lo smaltimento. Ha commentato l'assessore all'ambiente Massimiliano De Martina. Passiamo ora alla cronaca. Su ordinanza del Tribunale di Venezia, i carabinieri hanno condotto in carcere un 51enne di Spinea. L'uomo, già sottoposto al provvedimento di allontanamento per il reato di maltrattamenti in famiglia, continuava ad abusare psicologicamente dei genitori, costringendoli a vivere in un clima di terrore domestico, contrassegnato da continue minacce. Un'altra storia di abusi si è conclusa con l'incarcerazione di ADFN, 29enne portoghese, residente a Mestre. Da settembre, l'uomo sottoponeva a continue minacce di morte e violenze l'ex compagna, non volendo accettare la fine della loro relazione. Dopo quattro mesi di soprusi, finalmente, lo scorso mercoledì 29 gennaio, la donna ha trovato la forza di rivolgersi agli agenti del commissariato di Mestre e denunciare l'ex fidanzato. La polizia ha immediatamente avviato la procedura di emergenza che ha portato all'intervento della Procura di Venezia e al definitivo arresto dell'uomo nel pomeriggio di sabato. E sempre sabato, le porte di Santa Maria Maggiore si sono aperte anche per un 42enne residente in terraferma. L'uomo, per cui era già stato messo in atto un provvedimento di misura cautelare, in quanto ritenuto responsabile di un grosso furto avvenuto nel 2017 ai danni di un locale pubblico del porto gruarese, è stato condotto in carcere dai carabinieri di Favaro su ordinanza della magistratura di Pordenone, che ne ha aggravato la pena. La Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, ha deciso di non concedere l'indennizzo ai familiari di Jennifer Zaccone, la ventenne incinta assassinata a Martellago dal suo amante, nel 2006. Lucio Niero, all'epoca 34enne, aveva confessato di aver ucciso la ragazza al nono mese di gravidanza perché si era rifiutata di abortire e per questo era già stato condannato, all'epoca dei fatti, a 30 anni di carcere. È stato arrestato nella serata di ieri per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio CY, 35enne ganese, senza fissa dimora. L'uomo, già noto e con precedenti penali, è stato fermato dai carabinieri al Parco Bissuola, nel corso di un servizio di controllo dell'area. Nonostante il tentativo di sfuggire alla perquisizione, la pattuglia è riuscita a raggiungere lo spacciatore, che è stato trovato in possesso di quasi un etto di marijuana e 300 euro in contanti. Concludiamo, come sempre, con lo sport. Ha lottato fino alla fine, ma non c'è stato nulla da fare. L'Umana, dovuto arrendersi alla San Bernardo Cinelandia Cantù, che domenica ha trionfato sugli Oro Granata con un 81-77 finale. Inarrestabile, invece, l'escalation delle ragazze della Reier, che conquistando la quinta vittoria consecutiva, superano Broni e Altaliercio con un 89-66 e raggiungono Ragusa in classifica. E' stata una partita, direi, abbastanza intensa, piuttosto intensa. Il coach ci ha chiesto a metà tempo di tenere più alta l'intensità, specialmente in attacco, e penso che l'abbiamo fatto molto bene nel secondo tempo di gara, riuscendo a portarci avanti di più di venti. Quindi sicuramente abbiamo fatto ciò che il coach ci ha chiesto, abbiamo tenuto botta all'inizio e abbiamo seguito il piano partita come il coach ci aveva chiesto. E per questa edizione è tutto, vi lascio ora le notizie da Padova con il nostro direttore Massimo Righetto e vi auguro una buona serata.